Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con 24 voti favorevoli e 14 contrari. Durante il dibattito sul pacchetto della manovra finanziaria della regione toscana sono stati approvati anche diversi atti collegati. Un bilancio che se lo dobbiamo definire in poche espressioni è nella sua parte corrente un bilancio sobrio perché è il momento di non esagerare nelle spese ma invece di mantenere un contenimento non tagli ma sobrio e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forti capacità di investimenti. Sobrio nella parte corrente dove abbiamo rimesso un po' tutte le poste sui disabili, su quello che è la socialità e quindi le persone meno abbienti, sulla possibilità di guardare anche a quello che sono voci di spesa che in qualche modo rendano l'uscita dalla crisi pandemica con il gruppo, tutti insieme e non creando e accentuando le disparità. Ma contemporaneamente è un bilancio con investimenti molto consistenti. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo la Trandia Bagnarripoli, 70 milioni che abbiamo messo. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo opere di difesa del suolo per circa 80 milioni, comprensive poi anche di quello che è il contrasto a interventi di erosione sulla costa. Avremo grazie a questo bilancio 60 milioni sulla sanità ulteriori a quelli che sono le risorse dei fondi strutturali e del PNNR. Ma avremo anche sulle riqualificazioni urbane 15 milioni che aiuteranno agli interventi di qualificazione nelle singole realtà della Toscana, 55 milioni sullo sport, dove concentreremo l'attenzione sulla possibilità di supportare, l'anno scorso l'abbiamo fatto per 56 comuni, altrettanti comuni dei 273 della Toscana e inizieremo la politica della costruzione dei centri sportivi Pegaso. Il primo impianto Pegaso sarà la piscina di San Bartolacintoia, proprio qua a Firenze, ma che avrà un'utilità regionale. Circa 15 milioni su interventi nella strutturazione della cultura e naturalmente sulla scuola dove ci sono 12 milioni ma sono complementari a quegli interventi, addirittura 33 interventi scolastici per una cifra superiore a 70 milioni che derivano dal fondo di coesione. Quindi un piano concentrato sugli investimenti e che in modo equilibrato regge quello che vuole essere una spesa corrente che io ho definito non di tagli, sobria, perché naturalmente i tempi che viviamo ci portano soprattutto a concentrare il nostro impegno sulla sanità e siccome per la regione toscana il covid significa circa 600 milioni l'anno la spesa per gli operatori, per le assunzioni, per l'affitto dei circa 90 hub, per le usca, per quello che sono gli interventi di acquisto di dispositivi, è evidente che il nostro bilancio nella parte corrente non poteva che essere frutto di una mediazione di un equilibrio. Il fatto che sia stato votato con forte convinzione dalla maggioranza, ma anche nell'opposizione ha vissuto un clima costruttivo, a me dà grande soddisfazione. Ma un bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse, anzi in questa manovra, è una manovra espansiva, noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per tre anni alle imprese, nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne. Un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Questo che vuol dire? Maggiore trasparenza, i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo, il Consiglio regionale diventi la casa delle Toscane e dei Toscani. È una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra regione con la capacità di sapere innovare. Un bilancio che nasce in un contesto ancora di incertezza perché da una parte sappiamo che la Toscana esce come tutto il Paese dal periodo dell'emergenza sanitaria, c'è stato un rallentamento dell'economia e quindi si sono verificate minore entrate, ma c'è anche un'incertezza che viene da un quadro normativo non ancora definito a livello nazionale perché non è stata approvata ancora la manovra finanziaria, ma ciò nonostante la Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti, del diritto alla mobilità, fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse. L'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra regione si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della regione toscana. È un bilancio nettamente insufficiente. Il Presidente Gianni lo ha definito work in progress. Va bene work in progress, ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato e poi il martedì successivo, nello stesso fondo che era intoccabile, si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico, un po' a destra, un po' a manca. C'è un fondo di garanzia, l'unica cosa è stata garantita, sono le richieste del Partito Democratico. Poi, un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il Porto di Livorno. Il Presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Darsene Europa, ma i soldi per Darsene Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno e il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili. Ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Quindi è un bilancio nettamente insufficiente, che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera, ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali iscritti nel rosso bianco. Noi abbiamo ben chiaro che c'è un buco che arriva dalla sanità che non consente di poter effettuare tutte le spese che sono necessarie o che comunque erano previste negli anni passati e dovrebbero essere previsti anche per quest'anno. Abbiamo letto che Eugenio Gianni continua a chiedere l'intervento del Governo sui fondi che devono arrivare per il Covid, ma è anche vero che mica tutte le regioni sono ridotte come noi e stanno annaspando come stiamo annaspando noi. Quindi noi dopo la pausa delle vacanze di Natale, dopo l'approvazione del bilancio, torneremo sul tema anche della sanità perché vogliamo capire cosa non ha funzionato e cosa si poteva andare a risparmiare o le spese che potevano essere fatte inferiore rispetto a quelle che sono state fatte in questi anni. Ma certo è che tagliare sulle persone più fragili, su chi ha bisogno, è veramente qualcosa di inconcepibile in una regione che spesso il PD dice essere all'avanguardia per l'aiuto agli ultimi degli ultimi. In questo caso si sembra proprio che invece si privilegino spesso gli aiuti ai comuni che sono magari amici o dello stesso colore politico, ma poi quando si arriva ai disabili abbiamo visto che la Giunta avrebbe volentieri tagliato. Per noi è inaccettabile. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle saghene, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visioni. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana. E ancora una volta, a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. Un bilancio 2022 della regione toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta. Partito Democratico e Italia Viva insieme al proprio governatore Gianni danno una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale. Abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata. Era la nostra battaglia. Addizionale IRPEF e Bollo Auto non sono state aumentate. Per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi. Si trovano le risorse per la cultura, per lo sport e per le infrastrutture. Pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti. Si guarda verso il futuro se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'identificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni, sui teatri, sulle scuole. Pensiamo ai fondi per finanziare le scuole, per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi. Un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie locali, quindi le province e i comuni, che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che per quanto possa apparire colorita è preoccupante da un altro punto di vista, il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata, su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo. Pensiamo alla sanità, ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico. Pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500 mila euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal Governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente, che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno, per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore di turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia. Da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al Governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono. Quindi la responsabilità, non me ne voglia il Governatore, ma è doppia da questo punto di vista. La mancanza di una progettualità e il fare un affidamento quasi fideistico ai soldi che arriveranno dal settennato, da PNRR e dal Governo fa capire che in realtà oltre alla progettualità non ci rimane veramente altro che augurarci che almeno quelle che sono state le richieste avanzate possano andare a buon fine perché altrimenti non ci troviamo in situazioni di bilancio adesso, ma ci potremo trovare molto presto con tutte le conseguenze dal punto di vista sociale ed economico che ci possiamo aspettare. Agnese Pini, classe 1985, la più giovane direttrice di Un Quotidiano alla Guida della Nazione dal 2019, è la vincitrice della quinta edizione del Comunicatore Toscano dell'Anno, organizzata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana. Il riconoscimento le è stato consegnato dal presidente del Corico Menzo Brogi. La cerimonia si è svolta nella biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. La giornalista, nata a Carrara, è la prima donna in 160 anni a dirigere lo storico quotidiano alla nazione e ha assunto l'incarico a soli 34 anni. Anche quest'anno il Corico Menzo della Toscana premia con lei o colui che consideriamo il Comunicatore Toscano. Lo abbiamo fatto negli anni passati per esempio con il grande fotografo Massimo Sestini, con Jacopo Melio, con Elena Favilli, autrice di Storie della Buonanotte per Bambini Ribelle. Quest'anno ci sembrava giusto premiare Agnese Pini, giovanissima direttrice del giornale più storico della nostra Toscana, della Nazione, che dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle 100 donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una Toscana, una giornalista di questo talento, avesse anche il riconoscimento del Corico Menzo della Toscana. Ma io sono davvero orgoglioso di poter premiare Agnese Pini, una donna impegnata, una donna che sta cambiando anche il modo di fare comunicazione. Credo il Corico Menzo abbia fatto una scelta davvero giusta. Oggi bisogna investire molto sull'informazione. In un tempo in cui le fake news corrono veloci sulla rete, avere qualcuno che in maniera critica riesce a dare punti di vista anche diversi aiuta la democrazia. Credo che noi dobbiamo investire sempre di più per sostenere il servizio pubblico locale, a livello delle capacità delle emittenti locali, dei giornali locali, di esprimere un pensiero critico. Aiuta la politica e aiuta i cittadini. Su questo non ci possono essere passi indietro e non possiamo voltarci dall'altra parte. È una sfida non semplice in un tempo in cui la comunicazione sta cambiando. Ormai sempre più si lavora sulla rete e sempre più la notizia richiede tempi rapidi, come voi sapete molto bene. Quindi sono felice davvero di questo lavoro che sta portando avanti il Corico. Ringrazio Enzo Broci. Lo ringrazio anche per aver coinvolto le scuole, perché investire sulle ragazze, sui ragazzi, fargli capire il valore e il senso della comunicazione e dell'informazione oggi è qualcosa di profondamente importante su cui noi continueremo a lavorare anche nei prossimi anni. È il significato più bello e più importante perché ricevere un premio intitolato al comunicatore toscano, alla comunicatrice in questo caso, davvero appare come un bellissimo regalo di fine anno. Quindi sono davvero grata al Corico per aver pensato a me per questo riconoscimento così bello e prestigioso che arrivando a casa propria assume chiaramente un significato ancora più intimo, profondo e importante. È un momento difficile questo per l'informazione in generale, per la carta stampata in particolare, è un momento di grande trasformazione industriale, quindi con tutte le incognite del caso, le difficoltà del caso, ma proprio per questo è entusiasmante perché si ha la sensazione appunto di attraversare un momento storico per la nostra professione che quindi va vissuto nel migliore dei modi possibili cogliendo tutte le opportunità del cambiamento insieme alle difficoltà.